Rabbia in casa a Rosanero all'indomani della sentenza del Tribunale federale nazionale, l'organo della giustizia sportiva, che ha disposto alla retrocessione del Palermo, ma soprattutto per la decisione della Lega di Serie B di avere deliberata all'unanimità di rendere immediatamente esecutiva la sentenza senza aspettare il secondo grado di giudizio e di procedere con le partite dei play-off con le date programmate lo scorso 29 aprile. Il Consiglio ha anche deciso di cancellare i play-out, completando le quattro retrocessioni con quella del Palermo in aggiunta a quelle decise sul campo di Foggia, Padova e Carpi. La società Rosanero si ritiene pesantemente danneggiata e per questo ha inoltrato ricorso d'urgenza al Tar del Lazio contro la delibera del Consiglio di Lega di Serie B. È una sentenza pesantissima che non riesco a comprendere, ha commentato il presidente del Palermo, Alessandro Albanese. Avremmo voluto leggere, prosegue, una sentenza che fosse espressione di quello che è successo in campo ed è quello che continuiamo ad auspicare. Per Albanese, Arcus Network, società che ha acquistato il Palermo, non cambia i piani di rilancio del club. Sono tutti più motivati di prima, confidiamo nell'appello e non ci sentiamo in C. Una decisione che colpisce tutta la città, ha detto il sindaco Leoluca Orlando, che non tiene conto dei risultati sportivi ed è ancora più dolorosa se si tiene conto dei risultati raggiunti dalla squadra durante la stagione. Una decisione rispetto alla quale valuteremo, anche come amministrazione comunale, quali siano i margini di appello.